L'oro è il bene rifugio dai tempi dei tempi, quindi le circostanze geopolitiche in questo momento sono in burrasca e l'oro viene individuato come bene rifugio. Un bene che molto probabilmente nel tempo, comunque mai che vada, mantieni il tuo investimento. In questo momento le persone, anche il mondo dei broker si fida poco negli investimenti di speculazione e sta andandosi a comprare la materia prima o oro, ma anche le stesse banche centrali stanno facendo incetta di materia prima proprio per essere sicuri di non avere svalutazioni. Si può pensare che il prezzo continui a salire? A livello lavorativo questo costo così elevato inizia a dare qualche problematica e di questo non è certamente un buon presupposto. Speriamo più che altro per lavorare non è quanto costa, ma sono questi sbalzi enormi che fa perché nell'arco magari di 24-48 ore perde 3 euro, poi li riguadagna e questi sbalzi non fanno bene al nostro settore. La tendenza è quella a salire sia in euro ma anche in dollari perché la scorsa settimana ha superato la soglia di 2.500 dollari, l'oncia e quindi questo è un momento storico particolare. Non si prevede un abbassamento o comunque una riduzione del prezzo da qui alla fine dell'anno perché ovviamente ci sono due guerre in corso. C'è una situazione che riguarda le elezioni americane a fine anno e c'è un taglio da parte della Federal Reserve dei tassi, quindi ecco ci sono una serie di fattori che non ci fanno pensare a una riduzione del prezzo. Chiaramente noi abbiamo bisogno, l'ho detto più volte, di stabilità, non ci interessa per lavorare che il prezzo sia alto o sia basso. Diciamo che abbiamo fatto finta che questi problemi non esistessero però adesso alla riapertura ci aspetta la seconda parte dell'anno che di solito è la parte più importante lavorativamente parlando per noi aziende orafe e quindi siamo un po' preoccupati. Anche se come sempre siamo pronti alla ripartenza, siamo pronti per partecipare alla fiera di Vicenza che sarà dal 6 al 10 di settembre quindi con grande entusiasmo e slancio da parte di tutte le aziende e subito dopo ci sarà una fiera importante a Hong Kong, poi Istanbul e poi chiuderà l'anno fioristico Dubai.